Buongiorno a tutti quanti, allora riaccomi ritornata con un nuovo video. Dopo aver fatto un sondaggio nella mia pagina di Instagram, che se per caso non mi seguisco ancora, vi lascio il link nell'info box e anche il nickname in sovraimpressione, ho fatto un sondaggio stamattina, ovvero preferivate vedere un video haul o un video sull'organizzazione? Fatto sta che per ora, secondo il sondaggio, ha vinto il video haul, fatto sta che comunque ho registrato entrambi i video, quindi prossimamente vedrete online anche il video sull'organizzazione. Purtroppo ho cancellato per sbaglio le clip del video dei regali in iransale che avevo fatto, tipo il 26 dicembre avevo girato questo video, avevo un attimo di tempo, ero a casa, avevo ancora tutti i pacchi tutti aperti, ho detto va bene approfitto e registro un video. Niente, quelle clip sono andate perse, non so neanche più come recuperarle, mi sembra strano di averle cancellate così all'improvviso, fatto sta che non le trovo, né sul telefono e nemmeno dentro il mio hard disk, quindi mi devo adeguare. Comunque sia, di recente, appunto, dato che non vi ho fatto vedere i regali di Natale, però ci tenevo a farvi vedere almeno quello che mi aveva regalato Marco e cosa mi sono regalata io. Può essere utile perché adesso con il periodo dei saldi, secondo me, trovate ancora qualcosa scontato. Quindi, la settimana scorsa, con appunto l'inizio dei saldi, ho cercato principalmente un po' su internet, perché non avevo tantissimo tempo. Mi sono poi ritagliata una mattina dove sono andata un po' in giro con mia mamma. Ho preso alcune cosine, non tantissimo, ma nemmeno pochissimo. Devo dire che sono anni che non vado proprio il primo giorno dei saldi, come facevo proprio quando ero molto, ma molto più piccolina. Chi mi segue da tantissimi anni, da quando avevo 19 anni, lo sa benissimo che sono sempre stata una super fan dei saldi, andavo sempre il primo giorno, avevo la mia amichetta con cui andavamo, ci ritrovavamo prima, proprio per entrare da Tezzenis alle 9 e mezzo della mattina. Accogli, se ci ripenso. Fatto sta che comunque questi anni non ho voluto privarmi di niente e qualche acquistino comunque l'ho fatto. Prima di farvi vedere gli acquisti, però, vi faccio vedere i due regali. Uno è questo qui, è l'Apple Watch, che è appunto l'Apple Watch SE. Ho fatto mettere sia il vetrino sopra e anche mi sono presa la cover su Amazon trasparente. Niente, insomma, questo qui è appunto il mio nuovo Apple Watch. Devo dire che, vabbè, io sono un amante degli orologi digitali, questi li uso spesso per lavoro e soprattutto per il lavoro che faccio, dove mi serve sempre cronometrare, mettere il timer, eccetera. Questo orologio è fondamentale, anche perché io non è che riesco spesso a tirare fuori il telefono a lavoro. Questo orologio veramente è quello che io utilizzo maggiormente. Il colore è appunto blu, questo navy blu, che a me piace tantissimo, e ovviamente la colorazione della cornice, insomma, della cornice. L'orologio in sé è oro-rosa. Non mi aspettavo minimamente questo regalo da parte di Marco, perché io ho sempre avuto l'Apple Watch, la versione 3, se non mi sbaglio, è stata una delle prime versioni di quello da 38 mm, questo è da 40 mm, però adesso non li fanno più da 38 mm, li fanno da 40 mm o da 44 mm. Fatto sta che comunque, cambiando il telefono, io non riuscivo neanche più ad aggiornare il mio vecchio Apple Watch, però comunque sia lo utilizzavo per le funzioni base. Avevo cancellato tutte le applicazioni perché non ci stava niente, niente. Era già tanto se ci stesse l'aggiornamento. Con il nuovo iPhone ho fatto veramente fatica a matcharli, non so come dirvi. Quindi, fatto sta che comunque sia, io minimamente mi aspettavo questa cosa, anche perché è vero che lui mi diceva, sì, vabbè, ma cosa te lo prendi se ti funziona ancora? Però non ci ho proprio pensato come lo potessi regalarlo. Invece il mio autoregalo è stato questo qui, ovvero questa borsa di coccinelle che adesso vi faccio vedere. Ricorissimamente dentro questa borsa, perché la conservo, adesso ve la apro. È la Concrete Handle, si chiama così, Concrete Handle, Top Handle, una cosa del genere. Ed è la Medium Size. Ero indecisa se addirittura prendermi la Large o la Medium. Adesso, visto, a gennaio ovviamente, coccinelle ha fatto i saldi sul sito. Questa è scontata. Io l'avevo pagata 3,60, adesso costa 200 e qualcosa. Comunque c'è il sconto tipo del 20%, una cosa del genere. È una borsa super super capiente. Sembra piccola, ma non lo è nel momento in cui la vedete dentro. Ovviamente ha anche la tracolla. E niente, vabbè, già che ci sono la tiro fuori, ve la faccio vedere anche perché poi dopo vado a Milano con questa. Quindi questa, come si dice, questa sorta di portachiavi a C, molto da egocentrica, devo dire, perché io mi chiamo Kero, e la me fa ridere questa cosa della C. Però devo dire che, nonostante io non sia una fan di questa trama, vedete che è martellato il, come si dice, il tessuto. Devo dire che questa borsa è morbida, ma contemporaneamente strutturata, che sono le borse che piacciono a me. L'avrei preferita proprio più liscia, se devo essere sincera. Però mi piace tantissimo il fatto che abbia la cerniera dentro, soprattutto anti-shippaggio, perché questo è fondamentale. E poi mi piace che si possa portare così, perché devo dire che se non mi serve per andare a lavoro, che quindi deve essere magari un po' più svelta, eccetera, magari la porto così, ok? Tipo per andare a fare shopping, l'ho tenuta semplicemente così, al polso. Però tendenzialmente se devo andare a lavoro, o comunque magari la utilizzo per andare a Milano, che devo magari fare commissioni, e mi è scomodo tenerla così, uso la tracolla. È una borsa che, non lo so, secondo me, almeno uno stile di borsa, adesso, prescindere che sia di coccinelle o meno. Io volevo comunque un brand italiano, prendermi questo, farmi questo autoregalo. Alla fine l'ho presa di coccinelle, cioè, semplicemente perché costava meno di furla, ma io avrei optato anche a furla. Fatemi sapere se volete un video specifico, proprio sulla mia collezione delle borse, perché sapete che io sono amante delle borse, e delle borse che io tengo qua, in questa casa. Sì, perché tengo un po' di borse qui, e un po' di borse a Milano, perché ovviamente se le portassi tutte qua, penso che Marco mi caccierebbe di casa. Passiamo oltre. Ormai sono diventata super fan di Zalando. Infatti, talmente sono diventata super fan di Zalando, che avendo preso appunto questa borsa proprio sul sito di Zalando, io volevo che arrivasse prima di Natale, e quindi ho fatto questa sorta di abbonamento plus, dove è una sorta di Amazon Prime, ok? Per parlarci chiaro. Solo che ce l'avevo gratuita per i primi 30 giorni, ma ovviamente non ho disdetto l'abbonamento prima, quindi mi sono partiti 9,99 euro, 10 euro al mese. No, non 10 euro al mese. Sono 10 euro per l'abbonamento di tutto l'anno. Quindi alla fine ho detto, vabbè, ormai l'ho pagato, lo tengo, cosa devo fare? Quindi ho iniziato a curiosare su Zalando, che alla fine l'ho sempre un po' snobbato come sito per comprare, però in realtà ci sono un sacco di saldi. Anche poi c'è anche Zalando Privé, che è un'altra cosa, però. Proprio sul sito di Zalando, io mi sono presa questo portatessere. Questo è un portatessere di Patrizia Pepe, che ho pagato circa scontato sui 30 euro, una cosa del genere. È un portatessere semplicissimo. Su Instagram l'avete apprezzato tantissimo. Avanti e indietro è così. Mi avete chiesto in tanti se si possono mettere i contanti. Allora, sì, si possono mettere, si possono mettere qua dentro, ma non tantissimi ovviamente, perché se no, altrimenti come fate? Io, volendo, si possono mettere anche qua, io li tengo anche qua davanti, eh. Però, diciamo che qua in mezzo potete mettere contanti o qualche monetina, ok? Perché questo? Allora, io ho il mio portafoglio classico di Furla, che è un portafoglio piccolino che mi ero presa veramente un sacco di anni fa, nero, basic proprio, che però in questo periodo non sto praticamente più utilizzando. Cioè, lo tengo in borsa perché ci tengo magari con tanti monete, altre tessere, eccetera. Però, per i documenti, per la carta, per le cose proprio che mi servono anche se devo scendere e andare a fare la spesa, mi basta questo. Uno, perché in realtà ho trasformato, ho messo quasi tutto sul digitale, quindi per fare pagamenti io principalmente utilizzo sempre il telefono, per le tessere coppe se lungo utilizzo il telefono. Però, almeno i documenti, la patente, li tengo qua dentro e li metto dentro il taschino della giacca, o comunque li infilo in borsa, in una borsetta qualsiasi, è piccolo e compatto. Prima utilizzavo un portapatente che mi aveva praticamente regalato la scuola guida quando ho rinnovato la patente e che si è ovviamente spaccato e all'inizio mettevo tutto là dentro, tutto arruffato. E quindi ho detto, ma senti, vediamo se trovo un portatessere carino, simpatico. Ho trovato questo, ho detto, no, vabbè, assolutamente lo devo prendere. Almeno cambio un po' colore. Mi piace tantissimo il brand di Patrizia Pepe e poi è rosso. Cioè, per smorzare un attimino dal mio nero che sembra sempre il lutto. Come portatessere ci sta, perché è abbastanza capiente, ok? Non costa poco, è vero che io l'ho pagato scontato, però anche scontato non è che costasse pochissimo, perché ho portatessere sui 30 euro. Mi sembra anche abbastanza esagerato, eppure era scontato. Ma scontato anche di tanto, se non mi sbaglio, ok? e però ne volevo uno decente che mi durasse. Anche questo è martellato. Il martellato mi perseguita, anche se non mi piace, io lo compro lo stesso, vabbè, però devo dire che penso di aver fatto un ottimo, ottimo acquisto. Allora, questi orecchini li indosso adesso, attualmente. Io, purtroppo, posso indossare per la maggior parte delle volte, soprattutto se li utilizzo tutti i giorni, gli orecchini solamente d'oro. L'argento anche mi fa venire proprio un'irritazione. Ogni tanto mi si irrita l'orecchio anche se indosso l'argento. Succede raramente, però succede. E li ho visti scontati e avevo un ulteriore sconto da Blue Spirit e quindi li ho presi. Sì, lo so. Io, onestamente, ormai non penso di essere più una ragazzina come facevo magari anni fa. Chi mi segue veramente da tanti anni lo sa che a me piacevano tantissimo tutte queste cose di bigiotteria, però forse le uniche cose che adesso prendo, che magari non sono d'oro, ma sono comunque d'argento, sono quelle di Pandora. Ma tendenzialmente cerco sempre di vestire quasi tutto oro in generale, proprio sui gioielli, cerco di investire sull'oro perché penso che poi siano cose che poi rimangono a te, che magari puoi dare in futuro ai tuoi ipotetici figli, per esempio. E poi sono cose che io mi compro con i miei soldi e non lo so, per me è un valore importante. Devo dire che avevo trovato questi orecchini, ma che vi giuro costavano un sacco, perché costavano un sacco, costavano 189 euro e io li ho pagati 95. Voi direte, what? Vabbè, sì, li ho pagati secondo me abbastanza scontati, erano scontati e ulteriormente avevo un buono, quindi ho utilizzato tutto. Passando a delle cose un po' più così frivole, allora, come potete vedere, io sono super fan di Minnie e di Mickey Mouse in realtà e ho trovato da Intimissimi scontato al 50%, infatti l'ho pagato sui 25 euro se non mi sbaglio, sia sopra che sotto, era tutto insieme, questo pigiama scozzese, come vedete, con appunto Mickey Mouse, così, la sagoma di Mickey e niente, in realtà lo devo lavare, però ci tenevo a farvelo vedere prima di mettere tutto a lavare, quindi ho preso sia la parte sopra che ovviamente la parte sotto il pantalone. Poi sono passata da Zara, ho visto 850.000 cose, jeans, c'è veramente una marea di cose che non vi dico, a un certo punto mi sta venendo mal di testa, però ho detto, senti, prendiamo delle cose funzionali, io avevo bisogno delle magliette da sotto da lavoro, ok? E ho trovato queste due magliette nere proprio basiche che ho pagato 5 euro l'uno, tipo 4,95 e una è questa qua, ma proprio semplicissima, anche pure corta, perché spesso metto i pantaloni a vita alta e non l'ho pagata praticamente niente, mi piaceva anche un po' la trama perché non era proprio la classica maglietta liscia e quindi ho preso questa. e poi ho preso quest'altra che è un po' più lunghina, sempre con questa trama qua davanti, è molto carina, questa anche proprio per uscire, vabbè, io la uso per lavoro, però volendo la posso anche utilizzare proprio per uscire, anche questa semplicissima basic e altri acquisti in realtà che ho fatto ancora non mi sono arrivati, quindi comunque sia magari prossimamente vi farò un altro video haul, in realtà sto puntando tantissimo nel prendere online, ho perso un mio cappello che voi sicuramente avrete visto nei miei vlog, nei miei weekly vlog, di cui veramente mi è rimasto proprio qua e non riesco a trovarlo da nessuna parte, è semplicemente un cappello che probabilmente avrò preso da Tellewell o da Bershka, ma una marea, ma una marea, una marea di anni fa ed è un cappello nero con le borchette semplicissime nero opache qua sopra, ok, che avrò pagato 2 euro quel cappello, ma vi giuro che l'ho perso tante volte, ma l'ho sempre ritrovato, però sto giro ho perso veramente, quindi ero alla ricerca di un cappello, di un cappellino nero, insomma, e anche questo l'ho preso su Zalando, di Levis, magari se riesco vi metto lo screen, però poi sicuramente magari se faccio qualche altro acquisto ve lo, insomma, lo condividerò, ecco, soprattutto, secondo me, in questo periodo qui conviene comprare certi tipi di cose, ecco, magari scontate. E niente, fanciulli, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale se vi fa piacere e noi ci vediamo sicuramente alla prossima. Allora, metterò questa cosa a fine video, sono una deficiente perché ormai avevo già levato la ring light e tutto, però, ovviamente, mi sono dimenticata di mostrarvi queste scarpe qua, come potete vedere, queste qui sono della Timberland, sono un numero 37, ci tenevo a mostrarvele anche se in realtà se mi seguite nei miei video weekly vlog queste scarpe le avete già viste e le ho pagate scontate da 160 a 128 euro, però mi piacciono veramente, veramente tantissimo e all'inizio da mettere sono durissime, veramente durissime, ma in questo periodo le sto sfruttando tanto e quindi il piede piano piano mi si sta abituando per fortuna, ma all'inizio veramente mi facevano male qua dietro e ai lati, però vabbè, però penso che siano proprio belle, belle, belle invernali, si possono mettere sia sotto i jeans che anche con le gonne, insomma, quindi acquisto veramente con i saldi preso al volo. Sono un genio della lampada, quindi scusatemi, ovviamente io come al solito se non sono nature, vedete che ho già messo via la ring light proprio, però insomma ci tenevo a fare vedere queste scarpe che dopo utilizzerò. Bye!